Il corso di inglese di conversazione per adulti è rivolto a chi ha voglia di imparare a parlare inglese come si deve, divertendosi. Per arrivare a questo facciamo magari canzoni, possiamo fare dibattiti, c'è il role playing che ognuno fa come tipo una drama o un piccolo teatro, quindi sono diversi metodi che uso per far parlare le persone. Consiglio questa corsa a tutti quelli che quando erano studenti non hanno avuto possibilità di praticare l'inglese che hanno imparato. Grazie.